La prima edizione di Cooking Expo, salone della ristorazione e della filiera agroalimentare alla Fiera di Bergamo, tra il 15 e il 16 marzo è stata l'occasione anche per scegliere il miglior cuoco italiano. Il vincitore andrà a Ginevra il 7-8 giugno per la competizione europea del Bocuse d'Or, il più importante concorso gastronomico ideato dal grande chef francese Paul Bocuse. Abbiamo la fortuna di aver portato a Bergamo 24 giurati di carattere nazionale tra i migliori chef italiani che accompagneranno e sceglieranno il candidato per la selezione italiana del Bocuse d'Or. Sono 16 i candidati che stanno gareggiando per avere l'onore di rappresentare l'Italia a Ginevra. I 16 candidati selezionati dal comitato organizzatore del concorso presieduto da Giancarlo Perbellini, chef patron del ristorante Perbellini di Isolarizza a Verona, si sono sfidati su due temi, l'alibut bianco per il pesce e il vitello per la carne. Tre i bergamaschi tra i 16 finalisti, Fabio Borgonovo, chef trentenne della Villa Giavazzi di Verdello, Daniel Facen, 44 anni del ristorante anteprima di Chiuduno e Alberto Zanoletti, 31 anni della Locanda Armonia di Trescore Balneario. Le realtà più importanti del territorio che hanno voluto supportare questa manifestazione che è fondamentalmente di carattere internazionale, per promuovere il territorio di Bergamo ma anche i suoi prodotti, non solo i suoi prodotti ma anche i suoi manufatti collegati all'enogastronomia e a tutta la filiera. Oggi sono venuti i francesi organizzatori del Bocuse d'Or a Lione, si sono complimentati per questa grande manifestazione. Stiamo spolzionando il piazzo di Daniel Facen. Grazie a tutti.